La seconda nevicata, prevista per i giorni della Merla, ha rispettato le attese, con abbondanti fiocchi iniziati a cadere nella serata di ieri. La neve ha continuato a scendere dal cielo per tutta la mattina, imbiancando il Piacentino. Inevitabili i disagi causati dalle strade rese scivolose. Uno scontro frontale tra due auto si è verificato ieri sera ad Albarola, nel comune di Vigolzone. Quattro i feriti, tutti portati all'ospedale di Piacenza in condizioni abbastanza serie. Sempre a causa del fondo scivoloso, nella prima mattinata di oggi, sulla provinciale 11 di Gragnano, in direzione Piacenza, un'auto è finita nel fossato e si è ribaltata. A bordo padre e figlia, che fortunatamente hanno riportato solo lievi ferite. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale dell'Unione Bassa Valtrebbia e Valluretta. Poco più tardi, a Moffellona, una nuova uscita di strada ha coinvolto l'auto di un marocchino di 35 anni, residente a Borgonovo. Sul posto i carabinieri di San Nicolò, i vigili del fuoco e due ambulanze, una del 118 di Castel San Giovanni e l'altra della Croce Rossa di San Nicolò. In tarda mattinata, la strada viscida ha messo in difficoltà anche un camion per il trasporto del latte, per il quale si è reso necessario il soccorso stradale. Le condizioni meteorologiche, assieme all'allerta arancione messa dalla protezione civile, hanno indotto il comune di a tenere chiuse le scuole questa mattina, regolare lezioni invece negli altri paesi delle vallate.